ecco bene allora benvenuti e oggi entriamo nel quarto capitolo del nostro viaggio allora prima però di illustrare gli argomenti che ci accompagneranno nei prossimi giorni diamo un'occhiata alla nostra piattaforma per vedere che cosa sta succedendo allora prima di tutto abbiamo una news qui tenete gli occhi e le orecchie aperte questo weekend perché succederà qualche cosa sta arrivando lo vedete qua in fondo sta arrivando qualcuno anzi qualcuna non è una musa ma non è neanche oscura vedremo che cosa succederà poi l'oracolo ha parlato a tutti i gruppi e dice se non vivi come pensi finisci per pensare a come vivi mi sembra una riflessione interessante questa specialmente in questo periodo ed è anche un buon viatico per l'utilizzo della nostra piattaforma perché sento leggo dei messaggi che dicono ah sono indietro non riesco a fare come faccio una cosa l'altra calma perché e questo è un punto importante perché prima di tutto noi siamo all'interno di una storia stiamo compiendo un viaggio e durante questo viaggio come capita in tutti i viaggi ci sono molti stimoli molte sollecitazioni ora uno non può scendere dal suo mezzo di trasporto buttarsi in un museo poi correre a vedere un monumento poi andare a sentire un concerto poi leggere un libro eccetera per per prendere tutto quello che è possibile prendere all'interno di un viaggio farà delle scelte ovviamente la caratteristica di un viaggio è che si può sempre ritornare sui posti che si sono visitati magari anche dopo un po di tempo perché no ora questa piattaforma e questo ambiente staranno sempre in piedi nessuno li cancellerà mai quindi voi potrete ripercorrere le tappe del viaggio quando vorrete ovviamente non troverete all'interno di questo ambiente non troverete i suoi personaggi e gli insegnanti ma per esempio i forum continueranno a restare aperti quindi voi li potrete utilizzare per continuare anche a dialogare tra di voi e scambiarvi esperienze impressioni per ispirarvi a vicenda e quindi direi che noi abbiamo un tempo che è un tempo limitato che ci costringe a operare in un certo modo chiaramente altrimenti tutto quello che vi proponiamo potrebbe tranquillamente riferirsi a un periodo più lungo di percorso però lo facciamo lo facciamo in questo modo concentrato e lo facciamo in questo modo concentrato e però sappiate che rimango rimane tutto quindi non solo le risorse il manuale del corso eccetera eccetera ma rimane proprio l'ambiente con tutte le opportunità di interazione che ci sono news da elicona tenete sempre d'occhio questa parte e zeus questa mattina era un po fuso e quindi ha pubblicato il manuale con l'ultima pagina sbagliata che proponeva un'attività che anzi proponeva sia un'attività con jamboard che è una cosa che invece vedremo la volta prossima e quindi riscaricatelo se lo avete prelevato prima delle ore 11 di questa mattina o qui vedete avete le indicazioni sull'appunto il webinar d'accordo il manuale eccetera eccetera abbiamo assegnato dei premi oggi andate a vedere per quale motivo vedete che ogni tanto assegniamo dei premi allora ne approfitto per dire che eccola qua per dire che non sottovalutate questa tabella compilate la vedo che non tutti la compilano ma diciamo che in primo luogo non c'è da avere paura nel senso che non è una gara questa è solo un gioco e poi vedremo a che cosa serve questo gioco quindi non è detto che siano premiate le persone che hanno maggior punteggio anzi oggi vi farò un esempio proprio qui abbiamo le esperienze che riguardano il terzo capitolo poi saranno inserite quelle del quarto capitolo e così via tenete conto che ciascuno di voi appartiene a un gruppo e questa volta questo sì cioè il gruppo che avrà maggior punteggio naturalmente avrà un premio però a livello individuale invece non calcoliamo solo i buoni risultati ecco vedo che riccardo ha aggiornato il suo punteggio stamattina era più basso quindi è ancora riuscito a lavorare questa mattina bravo allora non sottovalutate questa tabella compilatela a mano a mano che fate qualche cosa lo inserite qui torniamo un attimo al corso dunque la mappa la mappa la lasciamo sempre qui in evidenza vedete che ci sono ancora tanti segnaposti voi potete sostituire il segnaposto con un'immagine oppure un'icona perché diciamo non è molto carino il segnaposto è bello vedere qualche cosa di voi che vi rappresenti può essere una fotografia una vostra immagine o anche semplicemente un'icona che vi può rappresentare qui sulla destra abbiamo sempre la tappa attuale questa volta con delle novità perché abbiamo inserito anche le prossime tappe così per darvi un'indicazione su quello che faremo perché a questo punto vi diamo una indicazione perché siamo praticamente a metà del viaggio no un po meno diciamo così ed è bene sapere che cosa succederà succederà che noi abbiamo ancora una piccola tappa che si occuperà della valutazione e diciamo chiuso questo argomento che riguarda appunto la valutazione noi avremmo chiuso l'impostazione generale di un corso di learning e quindi possiamo adesso occuparci di tutto quello che all'interno di un corso di learning rappresentano rappresenta la creatività con i suoi lavori quindi partiremo dallo storytelling poi lo storytelling sia audio che video gamification eccetera quindi dal 22 giugno al 5 luglio abbiamo un tappone una grossa tappa lunga all'interno della quale ci saranno piccoli webinar che esploreranno delle degli argomenti e tra l'altro avremo anche un ospite un ospite un guest speaker il mercoledì 24 giugno all'ora 21 che è una persona con la quale io lavoro abbiamo realizzato insieme 28 film per un grosso progetto internazionale in campo oncologico pediatrico quindi bambini ammalati di tumore è un progetto che sarà poi reso pubblico fra qualche tempo molto interessante lui è un regista direttore della fotografia anch'io sono regista scrivo sceneggiature faccio regia e montaggio lui anche montaggio color correction e quindi sarà interessante questo incontro per tutti sia per gli appassionati che diciamo praticano questa passione la passione della produzione di storie di film così sia di quegli appassionati che magari non hanno questa passione però sono interessati a capire come si costruisce una storia quali sono determinati aspetti eccetera quindi sarà un incontro importante questo del 24 giugno e vi dicevo dal 22 giugno al 5 luglio noi ci occuperemo appunto di questo mondo che è il mondo dello storytelling e lo vedremo sotto diversi aspetti e porteremo a vostra conoscenza anche delle esperienze che saranno sicuramente utili per affinare delle pratiche che voi potete comunemente e tranquillamente utilizzare con i vostri ragazzi poi tutto si concluderà il 4 luglio il 4 luglio ci sarà la consegna da parte vostra dei pv i pv sarebbero i project work non allarmatevi non si tratta di fare un progetto non abbiamo il tempo le forze ovviamente per impegnarvi nella costruzione di un progetto si tratterà di qualcosa che assolutamente alla vostra portata la portata di tutti che però serve per concludere il questo questo corso tra l'altro di project work si parla proprio nel capitolo quarto quindi quello che dobbiamo trattare che verrà trattato oggi e la consegna sarà appunto il 4 luglio voi potrete cominciare a pensare al vostro project work proprio dal 22 giugno al 4 luglio e poi che cosa succederà poi succederà che nella notte parlo proprio così della notte quindi non alle 5 del pomeriggio ma proprio nella notte del 7 luglio partendo dalle ore 21 arrivando fino alla mattina ci sarà il gran ballo finale con la notte degli oscar il gran ballo finale che inizierà alle ore 21 riceverete ovviamente informazioni sul dress code e che cosa fare in quella notte lì poi chi vorrà rimanere assisterà alla comunicazione molto lenta che durerà molte ore durante la notte del 7 luglio e che si concluderà appunto a notte fonda con l'assegnazione degli oscar ma su questo non dico nulla perché poi vi saranno date informazioni precise del resto siamo all'interno di uno storytelling quindi non è che possiamo spoilerare un po' lo dobbiamo fare perché voi dovete anche capire che cosa stiamo facendo e dovete capire che cosa stiamo facendo perché ma perché quello che noi stiamo facendo adesso voi lo potrete riprodurre in tutto in parte prendendo degli spunti lo potete riprodurre con i vostri studenti i vostri colleghi nel caso in cui vi capiti l'occasione di essere formatori in qualche corso e quindi ecco che noi ci stiamo un po' barcamenando tra la sorpresa e la spiegazione della sorpresa ovviamente quindi dobbiamo considerare sia che cosa possiamo fare come lo possiamo fare ma anche il perché e che cosa c'è sotto questo motore quindi per esempio nel capitolo 4 voi scoprirete se lo leggerete e ne parliamo tra poco di quali sono le funzioni per esempio di un personaggio come Cerbero e quindi si parla in questo capitolo della funzione del perturbante all'interno di un meccanismo di storytelling game poi qui per facilitare soprattutto quelli che arrivano, chi si perde un po', le puntate precedenti sono tutte nel diario di viaggio eccolo qua, questo è il diario di viaggio il diario di viaggio viene sempre aggiornato, è un documento unico abbiamo già i riferimenti per la quarta puntata per la quarta puntata non ci sono compiti non ci sono proposte tranne che la discussione nei forum di questi temi potete discutere di questi temi in modo separato oppure anche tutti insieme in un post unico cioè, non so, Maria può scrivere un post all'interno del suo gruppo dove verrà aperto appunto un argomento apposta potrà scrivere un post dove dirà due cose sul perturbante sulla settimana di Mario e sul learning plan che sono i tre argomenti principali di cui si occupa il quarto capitolo poi avete le puntate precedenti come vi dicevo prima, vedete che di proposte di lavoro ce n'è tante ce n'è tante proprio perché intanto ciascuno di voi può fare una scelta ma poi c'è chi ha anche le sue preferenze e quindi se mettete insieme tutte le proposte di lavoro vedete che ce n'è veramente tante di proposte però tutto questo, ripeto, rimane rimane e uno può in qualsiasi momento fare clic in un punto e provare a mettersi in gioco per una determinata operazione e poi confrontarsi con i suoi compagni all'interno dei forum e questa lista è destinata ad allungarsi allora io adesso vi prego però di una cosa noi abbiamo molti iscritti e tutti hanno inserito un messaggio di benvenuto qualcuno poi è entrato, entra, guarda, fa delle cose questo noi lo verifichiamo perché la piattaforma tiene conto ci dice quando uno di voi entra nella piattaforma quindi questo è positivo però noi vorremmo incentivare ancora una partecipazione maggiore allora io vi pregherei di essere latori nei confronti di tutti coloro che conoscete e che sono iscritti a questo corso di entrare, di non avere paura perché bisogna capire che cosa vuol dire questo documento perché se uno lo vede così naturalmente si spaventa e dice non faccio niente ma come avete capito questo non è un corso istituzionale nel modo più assoluto e quindi è un corso di ispirazione e cosa vuol dire corso di ispirazione? vuol dire che lo scopo è quello di far scattare dei meccanismi nella vostra testa lo scopo non è quello di creare un sito internet con google site non è questo lo scopo non ce ne può fregare di meno di creare un sito internet lo scopo è capire che cosa io posso fare per creare un ambiente per tenere stretti i miei studenti per inserirli in un meccanismo di storytelling di ambientazione, di narrazione per agganciarli, per proporgli delle attività questo è il nodo della questione poi che voi lo facciate con dei fogli che alzate o addobbando la classe o creando un sito questo dipende dalle vostre inclinazioni dei vostri interessi e ovviamente anche dalle vostre capacità per cui questo è molto importante deve essere molto chiaro lo scopo non è diciamo la tecnica con la quale si produce qualche cosa perché per arrivare a realizzare un determinato obiettivo esistono tante strade ma l'importante è sapere ed è questo lo scopo qual è l'obiettivo da realizzare sapere che possiamo pensare di fare una determinata cosa dove eravamo? va, è sparito qua ah sì qua, ecco certo poi qui c'è la tabella eccolo qua i gruppi, va bene c'è una zona dedicata ai gruppi per ricordarsi ovviamente in che gruppo siete di intervenire nei gruppi il manuale che viene sempre aggiornato questa volta dalla volta scorsa viene aggiornato in un file unico quindi lo riscaricate poi andate al capitolo che poi è importante questo che è il link che riporta il documento un po' analogo a quello precedente dove si riportano tutti i webinar quindi la registrazione di quello attuale comparirà qui come a mano a mano ci sono state quelle precedenti i tutorial cioè tutte le volte che spiegheremo qualche cosa con un video, un pdf eccetera sarà inserito qui e i tutorial sul corso cioè su come organizzare fare determinate cose nella piattaforma li troverete sì qui ora questa parte da quando scusate da quando ci occuperemo da quando ci occuperemo di storytelling questa parte sarà incrementata notevolmente e dunque con i due documenti quello delle cose da fare e quello del supporto diciamo così voi siete a posto perché avete sempre i vostri i vostri riferimenti questa è una proposta curiosa l'abbiamo messa in evidenza perché è un po' stravagante oggi ne parliamo un attimino e poi c'è questa sezione che è nuova è nuova di oggi date un'occhiata ai vostri lavori qui facendo clic potete guardare lo stato così quando ci sono dei depositi e voi dovete depositare i vostri lavori qui potete vedere l'insieme delle attività che sono fatte però vedere naturalmente potete solo vedere ma per parlarne per scambiarvi delle opinioni così certamente ci sono i forum quelli dei vostri gruppi che voi vedete qui tutti e tre ma che in realtà sono nascosti e potete vedere solo quello del vostro riferimento ho ricchi premi e cotillion invece vedete che la lista si allunga oggi abbiamo dato nuovi premi li abbiamo dati Riccardo De Montis a Sergio Morittu e Elena Carta e Antonella Salaris ben quattro di voi sono stati premiati nella giornata di oggi naturalmente non c'è una logica in questi premi nel senso che non è come un quiz televisivo per cui se si fa qualche cosa si ottiene un premio ci sono delle scadenze eccetera no a mano a mano che andiamo avanti e vediamo il modo con cui lavorate eccetera eccetera se c'è qualcosa che pensiamo debba essere in qualche modo segnalata ecco un modo per segnalarlo è un premio tenete conto che questo questa è una modalità didattica che voi potete usare io sono sicuro che per esempio già voi con i bambini questo lo fate non in termini diciamo di premio nel senso della riuscita di qualche cosa però certamente voi incoraggerete i vostri studenti con dando a volte qualche cosa a loro facendo dei regalini eccetera allora voi pensate che io in in quinta superiore in quinta superiore chiamo all'inizio dell'anno i miei studenti uno per uno li chiamo nome e cognome vengono si alzano in piedi vengono da me ricevono una stretta di mano un breve discorsetto personalizzato per ciascuno di loro perché si trovano al quinto anno della scuola superiore quindi alla fine del loro percorso scolastico ricevono da me dei quaderni in omaggio dei quaderni sui quali loro lavoreranno ricevono da me degli evidenziatori degli oggetti proprio che io vado a prendere vado ad acquistare apposta e e poi durante l'anno scolastico ricevono delle matite colorate che servono per fare determinati lavori con le mappe per esempio altre cose così e quindi cioè serve anche diciamo il premio per dare importanza a quello che si sta facendo per evitare di fare in modo che tutto finisca in un calderone di consumo e che invece resti e resti anche il ricordo di quello che si fa adesso adesso non voglio fare dei pistolotti pedagogici però c'è uno psicopedagogo britannico che si chiama Osubel che è quello che ha coniato la teoria dell'apprendimento significativo e che spiega che l'apprendimento sedimenta dentro di noi diventa importante quando è significativo ora significativo significa quando si aggancia a qualcosa d'altro è una rielaborazione della del principio di equivalenza dei concetti di Vygotsky in sostanza quindi se noi riusciamo a fare in modo che quello che facciamo resti resti anche come ricordo perché è agganciato ad altre cose noi otterremo un successo nell'apprendimento più forte vi sarà chiaro che tra qualche settimana quando quest'ambiente non ci sarà più voi vedrete che vi rimarrà impresso e vi rimarrà impresso anche negli anni a seguire rispetto magari a tanti altri corsi pur interessanti utili nelle quali avete imparato tante cose però lo avete fatto in un modo classico istituzionale e la forza del ricordo sarà sicuramente inferiore bene allora vediamo un po' di cose qui abbiamo diverse eccolo qua abbiamo tante cose anche abbastanza rapide alcune da esaminare e abbiamo visto che cosa c'è all'interno della piattaforma che cosa abbiamo fatto cioè cosa c'è di importante che abbiamo fatto fino adesso abbiamo raccontato la nostra passione abbiamo lavorato in gruppo quindi dividendo e costituendo i gruppi abbiamo creato un poster un poster che deve raccontare con uno slogan la nostra passione abbiamo progettato l'ambiente le premiazioni di cui abbiamo parlato poi abbiamo fatto due cose che diciamo sono in corso non sono ancora abbiamo pochi esempi che sono lo sketch note e l'utilizzo dei quaderni e poi varie altre cose round me sondaggio creatività widget eccetera queste sono le cose diciamo più importanti queste che trovate in alto e infatti per quelli che si affacceranno adesso all'interno di elicona prepareremo una come dire un percorso semplificato in modo che possano svolgere quelle 3-4 attività significative in modo da poter diciamo essere dentro la storia rapidamente forum e messaggi adesso parliamo di questo nel capitolo 4 si parla abbastanza dettagliatamente dell'utilizzo dei forum e di come i forum sono importanti perché rappresentano un vero e proprio strumento di controllo da parte dell'insegnante del processo di apprendimento del suo meccanismo come vedremo tra poco vediamo alcuni alcuni messaggi caratteristici per esempio Daniela dice che sta cercando di baccamenarsi nell'uso di un'applicazione d'accordo dice che non è una maga del web è un'impresa ardua ma non de mordo è molto importante un messaggio di questo genere perché che cosa ci indica un messaggio di questo genere ci indica che ci sono delle difficoltà chiaramente delle difficoltà ma che evidentemente Daniela a Daniela piace essere dentro questo processo e quindi Daniela ha intenzione di andare avanti come facciamo a verificare questo adesso vi sto parlando proprio in termini di controllo del processo di apprendimento lo facciamo perché noi possiamo controllare e lo potete fare anche voi in qualità di studenti ecco però qua abbiamo sbagliato va bene non importa visto che abbiamo sbagliato adesso facciamo così ecco facciamo così vedete qui avete i partecipanti cerchiamo come si chiamava Marcella Marcella Mattana lei ha scritto questo messaggio questa è un'operazione che potete fare anche voi poi fate clic sul nome della persona more e cercate interventi nei forum ecco vedete questo è il messaggio che io ho citato quindi ciao a tutti sto cercando di barcamenarmi eccetera possiamo vedere tutti i messaggi che ha inserito e quindi dalla sua presentazione vedete dice che è incuriosita e che l'avventura è coinvolgente allora che cosa possiamo dedurre possiamo dedurre che ha un interesse a causa di questo coinvolgimento questo è positivo perché come dire noi l'abbiamo agganciata abbiamo agganciato un nostro studente poi Marcella dice dice che sono entrata in ritardo si sta orientando ha bisogno di supporto quindi è un po' disorientata infatti lo dice di smarrimento così però parteciperà a un webinar si vede che il webinar l'ha dato fiducia perché ha continuato vedete siamo arrivati al 9 giugno e sta ancora cercando di barcamenarsi con google site ma non demorde poi ha cominciato a lavorare addirittura con Adobe Capture eccetera e e poi scrive anche che ci vedremo ad Elfi cioè abbiamo proprio l'esempio di uno studente tipico uno studente che ha che con tutte le sue problematiche però rimane agganciato quindi che cosa stiamo proponendo a Marcella a Marcella stiamo proponendo un corso alto lo stiamo proponendo a tutti diciamo così cioè un corso con delle grosse difficoltà non è un corso semplice questo perché la progettazione di un corso e-learning dell'attività a distanza e di tutta una serie di attività e metodologie didattiche legate tra di loro e che mirano un obiettivo è una cosa ben diversa che insegnare a fare una cosa è chiaro è diciamo è molto impegnativo e dunque la battaglia che si sta facendo è di cercare di portare il più avanti possibile più diciamo di alzare al livello massimo possibile il livello del corso tenendo dentro tutti gli studenti e direi che Marcella esprime bene questa 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 situazione che a noi interessa perché noi abbiamo bisogno di monitorare quello che stiamo facendo lo capite dobbiamo essere dentro il processo di apprendimento e capire come si allora qui c'è un link sbagliato va bene perché ho fatto un copy and call e poi non l'ho corretto vediamo invece quest'altro messaggio questo è stato premiato il 10 giugno così vi spieghiamo anche perché è stato premiato allora qui abbiamo Riccardo De Montis Riccar questo è stato premiato tutto il complesso perché perché diceva il 22 maggio diceva o due domande avendo già il programma office a che serve scaricare l'applicazione note che è inclusa e poi l'applicazione Spreaker può servire in questo viaggio non ne vedo l'utilità poi diceva il 22 maggio il percorso che ci proponi è molto interessante e ha fatto anche dei corsi sulla diattica digitale eccetera eccetera adesso è interessante vedere appunto il la filiera dei messaggi di Riccardo che è quella appunto che abbiamo si è aperta prima per errore allora vedete intanto che Riccardo è intervenuto molto all'interno del forum c'è una certa continuità questo è importante perché la continuità ci dà un elemento che elemento ci dà la continuità la continuità ci dà un elemento cognitivo cioè sappiamo che il soggetto è agganciato al simbolismo di ciò che dobbiamo fare quindi non è dentro solo perché ci sono dei compiti e riesce a farli ma perché comprende quello che stiamo facendo e questo per noi è un elemento molto importante per capire il meccanismo di apprendimento specifico di Riccardo allora Riccardo parlava della lettura dei viaggi eccetera eccetera poi vi ricordate quindi quattro giorni dopo inseriva questo post che caratteristiche ha questo questo messaggio questo messaggio ha delle caratteristiche qua va bene non l'ho scritto ve lo dico a voce ha delle caratteristiche particolari perché diciamo un po' esitante nel senso che lui ha bisogno di capire per quale motivo deve scaricare tutta una serie di applicazioni probabilmente poi dato che Riccardo è presente ne possiamo discutere pubblicamente così capiamo proprio qual è il meccanismo di approccio io mi sono fatto questa idea perché Riccardo naturalmente ha visto tutta una serie di applicazioni conosce già l'uso di molte probabilmente e comunque ha una certa esperienza e quindi è anche una certa pragmaticità e quindi si chiede che cosa serva a questa applicazione e cosa serva a quest'altra che serve per creare dei podcast poi naturalmente la vedremo la sua musa gli ha risposto gli ha risposto gli ha dato un'indicazione naturalmente anche di libertà nel senso che non è obbligato chiaramente a seguire questo percorso e se notate quindi da questa prima posizione abbiamo una posizione di partecipazione interesse apertura molto importante questo perché il messaggio di benvenuto già subito indica se tu ti vuoi mettere in gioco perché la passione che ciascuno ha è qualche cosa di personale noi non abbiamo chiesto un messaggio di benvenuto formale cioè non abbiamo chiesto dei saluti non è questo perché tutti sono capaci di salutarsi ma quello che noi abbiamo chiesto è dei saluti che parlassero di te e quindi abbiamo indicato un tema che è quello della tua passione questo determina un aggancio di un certo tipo sul quale poi ritorneremo quando parleremo dei poster e dei siti poi naturalmente è rimasto così un po' perplesso di fronte a questa cosa delle applicazioni tecniche eccetera non capiva bene a che cosa servissero però se poi noi guardiamo dove siamo eccolo qua qual'era dunque vediamo se va questo sì allora poi lui che cosa fa lui entra qui siamo ecco qui siamo al primo giugno perfetto è giusto lui entra dentro i forum vedete entra parla dà il suo parere le sue opinioni è piaciuto è piaciuto molto il tuo lavoro Elisabetta intanto complimenti per il precedente e così via cioè abbiamo scelto questo questo rapporto diciamo così di Riccardo con l'ambiente per illustrare un altro tipo di tipologia di studente tra virgolette permettetemi di chiamarvi studenti che ha un'evoluzione ha un'evoluzione all'interno per cui giustamente esprime delle delle preoccupazioni diciamo così tra virgolette ma questo non gli impedisce però di essere veramente dentro quello che viene proposto e addirittura interloquendo appunto con gli altri ora non è solo Riccardo che ha fatto questo non è solo lui però adesso è chiaro che noi non possiamo parlare di decine e decine di persone abbiamo scelto alcuni processi significativi da illustrare poi ah e poi c'è anche un altro fatto cioè che è questo che se andiamo a prendere scusate eccola qua in basso se andiamo a prendere la tabella delle valutazioni di Riccardo al 70 e qualche cosa posto non leggo bene il 78 posto ecco qua la vedete lui arriva a stamattina arrivava a 185 su 230 poi è ancora cresciuto il suo punteggio abbiamo visto a 205 che cosa vuol dire questo vuol dire che lui ha svolto tanti compiti ora ricordo che non siamo qui per stabilire chi fa più compiti o chi ne fa di meno non è questo il problema siamo qui per valutare per capire come noi possiamo valutare osservare un processo di apprendimento allora è evidente che Riccardo che il processo di apprendimento di Riccardo è molto pratico passa molto attraverso la pratica lui impara molto facendo le cose e una volta che ha fatto le cose le ha capite Riccardo poi piace discutere con qualcun altro guardate che questa è una modalità specifica di Riccardo che sicuramente non è quella di Daniela sono due meccanismi diversi perché a noi interessano questi meccanismi beh caspita perché noi non possiamo trattare tutti i nostri studenti allo stesso modo e lo vedremo quando vi mostrerò poi qui un paio di slide e poi leggerete il capitolo 4 questo concetto sarà molto chiaro non possiamo trattare tutti gli studenti allo stesso modo cioè non possiamo buttare l'osso e pensare che tutti i cani siano cerbero non è così e dobbiamo tenere conto del meccanismo di apprendimento di ciascuno per quale motivo per due motivi fondamentali il primo diciamo così è istituzionale il primo motivo istituzionale perché perché alla fine di un ciclo di studi alla fine di un corso alla fine di un progetto noi dovremmo dare una valutazione attenzione non daremo una valutazione qui e l'icona i dei dell'Olimpo non danno nessuna valutazione ma noi come insegnanti sì dovremmo poi dare una valutazione quindi seguite il mio ragionamento nel momento in cui poniamo che siamo alla fine del percorso nel momento in cui Daniela Marras e Riccardo De Montis propongono il loro project work che per entrambi è molto bello è molto valido ma diciamo così Riccardo ha svolto un maggior numero di lavori rispetto a Daniela probabilmente noi possiamo tenere Daniela in una valutazione inferiore rispetto a quella di Riccardo allora da un punto di vista quantitativo sì ma da un punto di vista qualitativo noi dobbiamo ragionare su questo punto perché evidentemente il percorso di Daniela è un percorso forse un po' più complicato rispetto a quello di Riccardo che ha già dimostrato all'inizio col suo famoso post iniziale di conoscere tutta una serie di cose che cosa vogliamo valutare vogliamo valutare un percorso quantitativo o un percorso qualitativo allora seguitemi ancora in questo ragionamento che forse per alcuni di voi può rappresentare qualche cosa di nuovo di diverso abbiamo Daniela e abbiamo Riccardo fanno due buoni lavori conclusivi finali Daniela ha meno lavori perché il suo processo è più complicato Riccardo ne ha di più perché ha più dimestichezza io vi proporrei a questo punto di dare la stessa identica valutazione a tutte e due da un punto di vista qualitativo ma siccome Riccardo ha messo a disposizione nei suoi nei forum il suo sapere agli altri ecco che lui ha fatto un passo avanti cioè voglio dire questo è facile per Riccardo adesso considerate che Riccardo non sia De Monti sia un tizio simbolico che si chiama Riccardo ovviamente allora immaginate che Riccardo avendo una serie di prerequisiti chiamiamoli così ha una certa dimestichezza con la tecnologia io non posso dire che diciamo Riccardo debba avere una valutazione maggiore per questo cosa devo guardare io io devo guardare il suo processo all'interno di un periodo in che cosa lui è andato avanti nel processo di apprendimento è andato avanti scusate faccio un esempio terra a terra è andato avanti nell'apprendimento di Microsoft OneNote ma non credo cioè non è questo il criterio con cui si può misurare le competenze di Riccardo perché? ma perché lui conoscendo già tutta una serie di cose ci metterà cinque minuti a capire come funziona OneNote ammesso che non lo conosca già o un'altra applicazione non sarà questo ma per Daniela il criterio invece è questo anche perché? ma perché lei ha avuto un rapporto completamente diverso con e quindi riuscire a manipolare determinati strumenti tecnici è un più allora dove lo metto io il più qua a Riccardo? beh io lo metto certo ha fatto un buon percorso eccetera ma lo metto là dove lui diventa come dire a sua volta non più studente ma insegnante e diventa un elemento all'interno del gruppo all'interno di Elicone eccetera è importante per aiutare gli altri è lì che lui fa un passaggio ulteriore cioè impara un'applicazione impara una metodologia perfetto ma dopodiché la sa anche insegnare è come dire non so io ti insegno a fare la pizza va bene tu fai la pizza e sei un bravo pizzaiolo ma sai un conto è essere un bravo pizzaiolo e un altro conto è aprire non so un blog un blog un blog esposto a tutto il mondo dove tu insegni dei trucchi dei particolari aiuti le persone a migliorare le pizze diventi un elemento che fa andare avanti il gruppo allora legittimamente possiamo aspettarci questo da Daniela può darsi di sì non lo so quale sarà il suo percorso tanto di cappello se arriverà a questo ma sta diciamo a questo punto della situazione non è proponibile che Daniela possa ottenere questo risultato diciamo così no perché il suo percorso è di un altro tipo allora per concludere vuol dire che questi due percorsi per noi hanno come dire dei giudizi diversi no noi non giudichiamo questi due percorsi perché sono gli stili di apprendimento sono gli stili cognitivi sono il modo con cui le persone procedono all'interno di un di un di un processo di apprendimento ma sono importanti perché io a un certo punto poniamo che Daniela arrivi a utilizzare il suo google site a fare un lavoro di un certo tipo eccetera noi potremmo valutare di lanciare una sfida e vedere se può in qualche modo cambiare il suo processo e prendere una strada più simile a quella di Riccardo per esempio ma la domanda di fondo è che se noi non abbiamo gli strumenti per controllare questo processo di apprendimento noi non possiamo fare questi ragionamenti noi avremmo solo dai nostri studenti dei compiti dei risultati e questi risultati sono vuoti saranno solo dei risultati quantitativi che non faranno giustizia del modo con cui i nostri studenti sono arrivati a quei risultati e quello che per noi conta non è il risultato ma è il processo è il modo con cui tu con cui tu operi perché perché questa è la pedagogia perché questo è il nostro ruolo da insegnante certo poi dobbiamo insegnare chiaramente i contenuti questo è chiaro tutto il processo è sui contenuti ma il modo con cui tu arrivi è questo che ci consente di osservare realmente il processo di apprendimento vediamo un altro esempio questo riguarda Sergio Muritto Sergio Muritto ha ricevuto un premio oggi per questo messaggio ciao Giuseppina io non so come aiutarti perché sul mio cellulare non si può installare Adobe Capture allora Sergio Muritto ha scritto alcuni messaggi su questo tema abbiamo cercato di aiutarlo ma ci siamo fermati non l'abbiamo volutamente aiutato fino in fondo gli abbiamo detto in sostanza Sergio se non puoi usare Adobe Capture non sappiamo che cosa dirti perché abbiamo detto questo per due motivi importanti il primo è che c'è la libertà di utilizzare di svolgere un lavoro o non svolgerlo quindi se non hai lo strumento per poter svolgere questo lavoro perché nessuno dei tuoi dispositivi a disposizione è compatibile con questa applicazione pace fine non farai quel lavoro lì non muore nessuno se io voglio andare a sciare e non ho di sci non lo so e ho lo snowboard userò lo snowboard se ho la slitta userò la slitta poi vedo che cosa succede quando gli altri sciano vedo che cosa è e poi se mi interessa cercherò di fare in modo di trovare una soluzione il secondo motivo è la sfida lanciata a Sergio cioè capito che Sergio anzi diciamo così capito che non avremmo creato dei problemi a Sergio attenzione cioè capito che Sergio non è lo studente di primo pelo cioè non è uno studente che non ha mai fatto queste cose eccetera ma che anche lui ha una certa esperienza capacità abbiamo valutato che nei confronti di Sergio poteva essere lanciata questa sfida e cioè caro Sergio non gli abbiamo detto che Adobe Capture è un'applicazione vettoriale e che attraverso l'uso di applicazioni vettoriali puoi fare un determinato risultato eccetera eccetera non abbiamo detto niente è chiuso è finita lì ma Sergio che cosa dice dice ti racconto che cosa mi sono inventato per realizzare quasi forse ciò che sembrava chiedere il compitino e poi lo spiega e lo spiega ed è questo tra l'altro io chiedo a Sergio poi di creare una piccola scheda didattica su questo così ma proprio una cosa semplicissima così poi la possiamo condividere tutti cioè lui che cosa ha fatto ha trovato una soluzione non ha trovato una soluzione per sé ma ha trovato una soluzione nel quadro di un lavoro all'interno del suo gruppo ecco che qui abbiamo un processo adesso non vi faccio vedere la filiera di Sergio per non perdere troppo tempo perché avete visto come funziona il meccanismo delle filiere quindi lo potete fare anche voi però ecco che qui abbiamo ancora una terza strada è la strada di chi non ha i mezzi adeguati per poter ottenere un certo risultato però il fatto di non avere i mezzi adeguati scusate il termine ma lo fa incazzare e quindi questa incazzatura lo spinge ad andare avanti e trovare una soluzione attenzione perché da un punto di vista psicologico mica tutti ragionano come Sergio perché qualcuno non avendo i mezzi non avendo gli strumenti si demoralizza e poi non fa più niente quindi in quel caso invece va sostenuto e va sostenuto in un altro modo ma vedete se noi non avessimo delle discussioni non avessimo dei forum dei forum dove i messaggi restano sono codificati stanno lì nel tempo non sono le parole che si dicono in classe e che in quanto parole finiscono non c'è una traccia ma abbiamo una discussione asincrona cioè che ci permette realmente di discutere e non una discussione sincrona dovuta poi al fatto che tra mezz'ora c'è il cambio dell'ora adesso stiamo facendo una cosa non ho tempo di seguirne un'altra scusa ne parliamo tra dieci minuti parliamo nei domani no abbiamo uno spazio libero dove possiamo discutere quando vogliamo nei tempi in cui vogliamo nelle modalità in cui vogliamo e andando a rileggere quello che abbiamo scritto e vedrete che qualche volta rileggendo quello che avete scritto vi sembrerà ingenuo magari tra un mese direte ma cavolo scrivevo questa roba qua ma che ridere i passi avanti che ho fatto ecco però questa è una traccia ed è una traccia fondamentale per l'osservazione vediamo l'ultimo esempio l'esempio di Anna allora Anna ci dice vediamo se riesco a ingrandire un po' qua anzi facciamo così andiamo allora facciamo così andiamo prendiamo la filiera che è più semplice perché è scritto troppo piccolo qui ecco questa è la filiera di Anna allora attenzione attenzione perché qui Anna presenta ancora un altro caso ma guardate i casi potrei andare avanti a parlare per un pomeriggio di tutti i casi personali e le modalità di approccio personali che ci sono in ciascuno di voi solo che ne ho scelti quattro per farvi capire il modo con cui ci dobbiamo opporre nei confronti di questo genere di cose allora Anna Livesu Anna Livesu inserisce martedì 19 maggio 2020 alle 17.50 questo messaggio di benvenuto dopodiché Anna non scrive più niente allora un insegnante dice abbiamo perso Anna non abbiamo perso Anna perché Anna Livesu noi scopriamo che ha 180 punti quindi vuol dire che Anna Livesu ha fatto quasi tutti i lavori che sono stati proposti è entrata ha scritto il messaggio di benvenuto e si è messa a lavorare Anna scusatemi il termine è una specie di muro è un trattore è il trattore Anna arriva saluta tutti non guarda in faccia a nessuno perché sa che deve lavorare sa che ci sono gli impegni e si butta a fare i compiti e ne fa uno dietro l'altro trum 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 macina compiti è un altro tipo di approccio perché Anna fa questo non lo so bisognerebbe chiederlo ad Anna se è presente naturalmente glielo chiediamo ma bisognerebbe chiederglielo davvero perché bisognerebbe chiederglielo davvero è perché noi mancano degli elementi per capire che cosa come si pone Anna qual è diciamo il suo atteggiamento nei confronti dell'apprendimento quali sono i suoi meccanismi i suoi processi abbiamo bisogno di mandare un messaggio a Anna noi non lo facciamo adesso perché non è questo che ci interessa a noi interessa discutere di metodologie didattiche quindi però se Anna fosse una vostra studentessa o una mia studentessa in un altro contesto ecco che io alzerei la coronetta del telefono scriverei un messaggio la contatterei personalmente l'andrei a cercare in un corridoio e direi Anna hai dei risultati incredibili svolgi una gran mole di lavoro qual è il problema proprio chiederei così qual è il problema perché non scrivi nei forum perché non dici quello che fai può darsi la butto lì non si offenda Anna adesso non parliamo più di Anna parliamo di un ipotetico personaggio simbolico può darsi che Anna non lo so sia timida magari scopriamo che Anna ha il problema che ha difficoltà a esprimersi a esporsi di fronte agli altri peggio magari Anna pensa di avere prodotto delle cose non valide che di cui si vergogna oppure il contrario magari Anna pensa di essere completamente superiore magari è una narcisista incredibile che non guarda nessuno fa tutti i compiti e lotta per il primo premio e basta tra questi due poli deve esserci una soluzione chiaramente ma sempre non per dare un giudizio noi non diamo dei giudizi non giudichiamo nessuno anzi io preciso questo l'insegnante si astiene dal giudizio sospende il giudizio non dà giudizi l'insegnante osserva un processo e cerca di capire come aiutare quel soggetto a compiere questo processo oppure a proporgliene un altro anche per variare oppure a lasciarlo continuare nel suo processo ma sollecitarlo per altre questioni ecco questo è il nostro lavoro per svolgere questo lavoro noi abbiamo bisogno di comprendere veramente questo processo e quindi adesso vediamo qualche altra cosa parliamo di alcuni lavori che sono stati fatti quindi adesso io apro così lo facciamo molto rapidamente perché anche qui quello che io vi voglio far capire è che tipo di indicazioni noi diamo quindi per esempio partiamo da 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 eccolo qua partiamo dal progetto l'ambiente della mia passione quello che vedete voi cioè che vedo io insomma che vedete voi e che ho io qua è quello che vedete anche voi nel momento in cui farete un link utilizzerete il link che vi ho proposto in piattaforma prima vi ricordate sulla parte destra arrivate al fondo vostri lavori voi vedrete questa scheda allora quando trovate il giallo il giallo è perché diciamo grosso modo funziona quello che avete fatto più o meno funziona quando c'è l'azzurro è perché c'è qualche cosa che vi suggeriamo di fare quando c'è rosso è perché non funziona il il link o c'è qualche problema rosso sono problemi tecnici non si vede non funziona c'è qualche cosa che non va verde è perché sono quelli che mi sono segnato da mostrarvi adesso alcuni perlomeno no queste sono delle osservazioni non sono dei giudizi torno a ripetere sono delle osservazioni su tecniche sul vostro lavoro quindi qui si dice per esempio non c'è l'ambiente il video può essere impiegato come benvenuto trailer qui all'interno di questo lavoro c'è un bel video interessante che potrebbe proprio avere questa funzione allora il suggerimento che darei a Vittoria è questo Vittoria non ti confondere tieni separate le cose stiamo costruendo un ambiente concentrati sull'ambiente poi il messaggio di benvenuto trailer video eccetera sono altre cose che possiamo aggiungere questo consiglio lo lo do perché perché quando noi lavoriamo a un progetto di questo genere così vasto ricco di creatività di cose da fare eccetera è facile perdersi inizi a fare una cosa poi ti viene in mente che potresti ci starebbe bene quest'altra poi quell'altra ancora e così via ora se avessimo più tempo potremmo seguire meglio questa fase di progettazione però intanto tenetevi questo consiglio quindi il trailer può essere utilizzato oppure per esempio Daniela vai avanti a progettare l'ambiente perché Daniela si è fermata ha fatto qualcosa così non so perché si è fermata però ecco noi instauriamo questo dialogo in modo da capire per quale motivo si è fermata ma vai avanti perché la strada è quella giusta all'inizio l'idea è buona poi diventa un sito turistico lei Elena si è fatta prendere dall'amore per la Sardegna e quindi ha iniziato bene e poi dopo di che ha messo dentro filmati foto eventi della sua amata terra perfetto però non è più non è più un ambiente per insegnare la tua passione ricordatevi che questo serve per no poi Lina scrive resami conto di essere andata fuori rotta sono osservazioni importanti per noi queste perché ci danno come insegnanti la misura la misura della capacità della persona di ragionare sul suo stesso apprendimento e quindi di trovare delle soluzioni per andare avanti qui per esempio manca l'ambiente però d'altra parte manco si vede perché c'è qualche cosa che ci impedisce bisogna capire se questo è l'ambiente con cui insegneresti la tua passione per esempio Riccardo no quindi poi ve le potete vedere queste cose ecco qui per esempio c'è un verde vediamo perché è Ivana Ivana ha prodotto questa cosa che è interessante perché perché non è il site sapete che potevate produrlo anche con uno schema di carta va benissimo anche uno schema di carta e questa appunto è la dimostrazione che non sempre dobbiamo agganciarci alla tecnologia ecco qua dice qual è lo scopo sarà questo sarà lo scopo dell'ambiente insegni la tua passione attenzione qui vedete se è riciclato cosa vuol dire riciclato vuol dire che per esempio qui Mariangela Mariangela ci propone questo lavoro di apprendimento dei colori allora vuol dire che sarà un lavoro che lei ha fatto in classe eccetera però non si capisce perché la sua passione non è espressa come tale non si sa se la sua passione è quella dei colori non credo io la sua passione sarà un'altra allora lei ha preso un lavoro o una parte di un lavoro che ha fatto con i bambini e ha provato a realizzare il sito io lo capisco questo però non è il compito chiesto non è l'esercizio chiesto però noi ugualmente abbiamo delle informazioni su Mariangela quale informazione abbiamo su Mariangela abbiamo l'informazione che Mariangela è stata catturata dall'aspetto tecnico cioè dal come creare il sito gli è piaciuta questa cosa è legittima ovviamente è un'operazione legittima questa però dobbiamo riportare Mariangela sui binari perché perché è giusto che lei si appassioni a delle tecnologie ma lo scopo di questo insegnamento non sono le tecnologie ma sono le metodologie didattiche quindi dobbiamo cercare di fare in modo di tenere Mariangela con i piedi in due scarpe nella scarpa delle tecnologie visto che le piace sperimentare ma anche nella scarpa di metodologie didattiche prova prova a progettare proprio il tuo ambiente come lo fare come faresti a insegnare qualche cosa che riguarda la tua passione a qualcuno come lo cattureresti ecco questo vedete anche questo è un'età di apprendimento svolta nel periodo della dad è sempre Mariangela perfetto non me ne ero accorto quindi va bene qui anche non è chiara la passione qual ambiente insegneresti sensazioni dice quando mi è stato chiesto di pensare la mia passione mi sono fermato ho pensato il mondo ma è bello questo racconto questo potrebbe essere una sorta di introduzione poi bisogna andare avanti ovviamente foto sensazioni però non è l'ambiente questo non è l'ambiente perché perché non ci sono le stanze cioè non c'è il modo con cui può catturare i suoi ipotetici studenti anche se anche se questo testo io lo utilizzerei proprio all'inizio cioè proprio nell'home page perché è interessante è un testo di ispirazione quindi avvicina le persone non le allontana dalla tua passione allora andiamo qua cara Teresa in questo caso e poi così abbiamo altri che potete vedere vediamo questo Daniela questo l'ho messo in evidenza per mostrarvelo per quale motivo vediamo ah sì perché qui abbiamo l'elaborazione delle stanze forum risorse serie eccetera quindi c'è una rappresentazione dell'ambiente la passione ovviamente da insegnare i viaggi io direi che devi continuare ad articolare un po' questo questo ambiente inserendo qui proprio qualche riga che spieghi che spieghi a che cosa serve che cosa come pensi di insegnare ai tuoi futuri studenti la tua passione quindi questi queste diverse stanze devono essere funzionali a questo insegnamento poi qui abbiamo Simonetta Simonetta se mi ami scrivelo è un ottimo slogan questo e l'ho messo in evidenza per questo poi ho un disegno non c'è tecnologia qui benissimo e diciamo a Simonetta che mancano le stanze ovviamente anche se è disegnato a mano è bello lo slogan per avvicinare la persona perfetto però a questo punto quali sono i diversi riferimenti all'interno qui Paola ha messo un sito dentro il sito non voleva rivelare la destinazione quindi è interessante proprio il proposito che si è posta il sito dentro il sito è qui faremo il nostro viaggio tutti in carrozza si parte molto bene poi qui ci sono le stanze benvenuti home page e questo è un'applicazione che noi useremo quando faremo storytelling noi utilizzeremo questa applicazione per creare una foto web story che poi vi spieghiamo che cos'è c'è una tecnica narrativa attraverso la fotografia e l'immagine che ha a che fare con il web journalism ed è veramente molto molto interessante l'applicazione migliore per fare questo genere di cose è proprio Adobe Spark page che ha utilizzato lei però un sito dentro il sito può essere complicato perché può anche distrarre quindi è solo un'indicazione tecnica continua a produrre quindi a lavorare sul tuo ambiente se ne hai voglia qui non si vedono le slide sembra un inizio abbozzato poi va bene andiamo avanti eccetera in collaborazione con i colleghi d'accordo va bene precisarlo questo però ok questo poi immagini sì ma non si capiscono le funzioni dell'ambiente quindi anche qui qui abbiamo un esempio dove non so Maria Elena per esempio è stata molto attratta dalle immagini però poi ha perso di vista le funzioni dell'ambiente ecco poi qui ah qui Grazia Grazia mi ha fatto morire da ridere perché cosa dice Grazia adesso ve lo faccio vedere Grazia fa questa cosa ah no questa non va ma scusate da segnare in rosso ok allora Grazia fa questa cosa qua allora la mia passione di Grazia Pianezzi perfetto è un bel poster tutto benissimo c'è anche lei molto bene il fatto di anche di presentarsi e farsi vedere benvenuti a tutti coloro che vorranno condividere la mia passione bene perché il termine condividere la mia passione è accattivante io non te la non dico qua che ti devo insegnare qualcosa inizia a condividere quello che io faccio e poi vedi se ti piace però finisce qui non è un ambiente non ci sono le stanze giusto? lo vedete anche voi? mi date ragione? lo vedete anche voi? perché? perché se torniamo a quello che scrive lei dice dice allora ho utilizzato Google site eccetera eccetera le indicazioni le indicazioni della lezione tecnica di monocaglienza provando a immaginare quello che si sarà e così poi scrive questo l'ho messo io in rosso ho lasciato intendere che questi due punti cioè la creazione il seguito dell'ambiente eccetera necessiteranno di una riflessione successiva immaginando in un successivo lavoro di collaborazione cioè lei ha fatto il lavoro iniziale e poi dice boh per il resto rimando a quando ci saranno spiegazioni o collaborerò con qualcuno eccetera no qui non facciamo i furbi grazie non puoi rimandare un lavoro con la scusa che riceverai indicazioni le indicazioni ci sono tutte nel manuale allora mi ha fatto ridere sta cosa ma d'altra parte grazie ha messo anche un certo tempo per creare una pagina di quel genere non si fa in tre secondi e quindi è spiegabile che sia stata soddisfatta del punto che ha raggiunto e poi abbia rimandato diciamo così il resto qui per esempio anche qua hanno compito riciclato attenzione perché questo lavoro su Paul Klee dal punto di vista della linea così ci sono i cosi è da capire che cosa posso fare che cosa posso fare che allora questo mi sembra che questo lavoro le filastrocche la caccia il cerchettino sia un lavoro già fatto già fatto e che lei ha sistemato su google site ma non c'entra niente con la sua passione e anche lei ricade nel caso di quelli che hanno trovato interessante utilizzare google site e a questo punto hanno preferito utilizzare l'applicazione piuttosto che progettare l'ambiente per quello dico compito riciclato lo dico ridendo non c'è non è un'accusa è solo per indicare che veramente ci sono non sono errori questi non sono errori sono approcci diversi nei confronti di un lavoro io ti propongo un lavoro A tu in questo lavoro ci vedi A1 A2 B A con B B elevato alla A A elevato alla B e quindi ti fai catturare da un aspetto facendoti catturare da un aspetto poi perdi di vista ovviamente il resto e poi se andate avanti va bene anche qui c'è una caccia al tesoro ma anche qui manca l'ambiente ora questo lavoro che avete visto qui noi non lo facciamo per tutti voi perché dobbiamo andare avanti abbiamo un sacco di cose da fare e non possiamo esaminare tutti i vostri lavori specialmente poi adesso che entreranno anche altri in piattaforma eccetera quindi serve solo per darvi delle indicazioni su che cosa beh su come lavorare questo certamente ma sui percorsi perché il capitolo 4 si occupa proprio di questo si occupa di come osservare un processo di apprendimento c'è anche un'altra tipologia per esempio c'è la tipologia di chi pensa di dover imparare a tutti i costi qualche cosa e quindi svolge il suo lavoro lo svolge bene anche il suo lavoro tecnico eccetera poi molla tutto aspetta un altro lavoro e così via questo è un altro tipo di approccio è l'approccio di chi pensa che impara meglio seguendo fedelmente tutte le impostazioni fornite proprio alla lettera in modo da aver imparato una procedura e imparato questa procedura ha compiuto un passo avanti domanda ha compiuto un passo avanti risposta sì certo che l'ha compiuto non si può negare tutti hanno compiuto un passo avanti lo vedete tutti hanno svolto un percorso il punto per noi insegnanti è che questi percorsi sono diversi a volte sono anche molto diversi poterli vedere poterli esaminare concretamente a noi fornisce delle informazioni che ci permettono poi di intervenire di intervenire personalmente e qui siamo nel campo della personalizzazione dell'apprendimento guardate che personalizzare l'apprendimento non significa individualizzarlo cioè non significa che a ognuno di voi in base allo stile di apprendimento eccetera diamo un compito diverso sarebbe una follia ci vorrebbe un insegnante ogni due o tre studenti per fare questo non esiste questo anche tanti pedagoghi che parlano proprio a vanvera di questo concetto dal loro cattedro universitario senza aver mai visto un'aula sprecano il loro fiato la personalizzazione non è questo la personalizzazione è cercare di capire come funziona il vostro stile il vostro meccanismo e aiutarvi ad andare avanti non cambiando le consegne ma aiutandovi a riflettere su quello che fate lo capite io qua non dico a Elena che deve fare un'altra cosa oppure che che deve per forza compire questo compito gli dico progetta un ambiente per insegnare la tua passione ovviamente se vuoi cioè rifletti su quello che stai facendo perché riflettere su come io sto imparando aiuta a imparare meglio di capire il modo con cui tu apprendi significa che avrai una strada aperta un'autostrada per per imparare e questo ti faciliterà faciliterà il tuo cammino e questo è un tipo di personalizzazione che noi possiamo fare ma nel meccanismo tradizionale quando l'insegnante assegna un compito e poi riceve un compito questa cosa che voi vedete cioè questi testi i forum la scrittura eccetera non ci sono voi avete solo il compito avete il compito e avete al limite una chiacchierata un piccolo colloquio con il vostro studente alla scuola alla scuola di infanzia avete più possibilità di parlare di avere alla scuola elementare anche ma più salite di grado e più diventa complicato più le ore si riducono i tempi stringono a parte che comunque anche nelle scuole primarie oggi siete assillati da una burocrazia da tempi da meccanismi che vi distolgono continuamente da queste osservazioni e invece come avete visto averle averle vi permette proprio di riflettere tenete conto che questa operazione cioè di riflessione da parte dell'insegnante non si svolge in una giornata in cinque minuti in un tempo prestabilito si svolge andando verificando vedendo un giorno un altro eccetera ragionando pensando e poi certo oggi oggi si ho avuto modo di scrivere queste cose e quindi ma anche l'insegnante si prende i suoi tempi per quindi siamo qua a questo punto vediamo ancora un paio di altre cosette di vostri lavori qui allora questo non serve questo non serve questo no questo l'abbiamo visto questo questo abbiamo visto abbiamo visto questo abbiamo appena visto i poster consegnati anche voi avete accesso a questa cartella per vederli e sono tutti molto pertinenti c'è qualche cosa di voi di ciascuno di voi in ciascuno di questi poster anche in questi che dovete aprire e cliccare sopra per vederli io vi chiederei che cosa c'è qual è l'elemento che unisce i lavori che abbiamo visto prima e ai poster vedete tennis passioni ciac si gira c'è qualche cosa c'è un elemento comune in tutti questi lavori secondo voi c'è qualcuno che ha qualche idea che vuole intervenire e mi dice qualche cosa avete visto anche nei messaggi nei forum negli interventi che ci sono nel modo di lavorare c'è qualche cosa di comune che ha comune a tutti quanti non è tecnica sapete cos'è? forse sui cervelli si si forse la curiosità nel imparare a riparare c'è una grandissima curiosità assolutamente proprio ci sia anche il desiderio comunque di comunicare agli altri certo c'è il desiderio di comunicare agli altri c'è una grande curiosità assolutamente e questi due edifici poggiano su un medesimo sulle medesime fondamenta e le fondamenta sono che potrebbe essere un altro edificio certo le fondamenta sono rappresentate sapete da cosa? a mio parere poi può darsi che mi sbagli voi abbiate delle altre opinioni ma a mio parere sono rappresentate dall'affettività dai sentimenti io trovo che tutto quello che viene fatto in un modo in un altro prendendo una strada prendendo un'altra rispettando le consegne o meno ma tutte esprimono un terreno affettivo molto importante leggete gli slogan leggete quello che è stato scritto cioè le persone sono attaccate a quello che fanno c'è qualche cosa che lega proprio sentimentalmente il prodotto al lavoro e alla persona stessa e nel momento in cui c'è questo tutto diventa possibile perché guardate una cosa secondo me io l'avevo scritto in un libro all'inizio degli anni 2000 un libro che non ha venduto manco una copia le uniche copie che sono state vendute sono quelle che portavo in giro io nelle conferenze però questo libro diceva questo che la relazione educativa prima di tutto è un'educazione è una relazione affettiva e l'affetto l'affettività proprio l'affettività che si genera tra lo studente e il suo maestro tra entrambi e il lavoro che stanno facendo tra entrambi e la comunità dove vivono l'ambiente in cui operano la scuola l'aula gli strumenti che utilizzano eccetera è il motore principale dell'apprendimento perché la curiosità si può svanire la capacità di mettersi in gioco potrebbe esserci e poi sparire se invece c'è continuità è perché c'è qualche cosa che si esprime da un punto di vista affettivo e uno dei modi per aiutare questo tipo di espressione è proprio lo storytelling come vedremo cioè stare dentro una storia raccontare una storia raccontare la storia di quello che stiamo facendo catturare attraverso la storia perché la storia ma perché la storia implica una identificazione con i meccanismi della storia e quindi se la storia poggia su queste basi come tutte le storie diciamo normalmente dovrebbero fare il soggetto non può non essere catturato e la storia può partire dall'accoglienza dell'insegnante proprio dall'inizio da come si viene accolti in questa scuola in questo ambiente perché lì si inizierà una storia una lunga storia che poi appunto si chiuderà poi alle superiori e anche lì devi saperla chiudere una storia ecco per quella quell'aneddoto che vi ho raccontato all'inizio bisogna avere la percezione di aver percorso qualche cosa poi qui abbiamo anche questo poi vi condivido l'ho già fatto mi sembra qui abbiamo poche cose no queste qui segnate così in azzurro c'è qualche cosa ah no qui ah l'ho segnata così azzurro perché azzurro sono i grafismi i grafismi creati con adobe scan invece e invece qui abbiamo un altro tipo di grafismo eccolo qua era per distinguere le tipologie di grafismo o non con adobe scan ma no no scusatemi sono sbagliato allora è per distinguere le tipologie di grafismo che sono ecco così quindi più diciamo rotonde più grafiche qui c'è un volto rimarrò nascosto qua è interessante andatele a vedere queste cose qui invece abbiamo un grafismo più diradato ecco potreste ancora ampliare delle parti prenderne delle parti qui qui la fantasia è come quando guardate le nuvole fare questo gioco anche in classe è interessante questa texture ma poi quello che è interessante non è solo l'immagine ma quello che scrivete la storia della formichina pina non lo so alzo gli occhi e sognavo il mostro un pomeriggio primaverile poi invece era solo un bidone della spazzatura eccetera sono cose qui perché l'ho segnato marrone perché ah sì no perché questo è è una figura è è un quadro è un'opera d'arte e quindi qui suggerivo di prendere delle parti capito non tutta l'opera cioè andare dentro l'opera e poi cercare di capire vedremo quando ci occupiamo di storytelling vedremo le tecniche di Kulesov che era un cineasta russo che ha fatto degli esperimenti di un certo tipo e vedremo come questo lavoro ci tornerà utile per cui continuate pure a farlo fate degli esperimenti provate a vedere che cosa salta fuori dall'immaginazione più incredibile che avete inquadrando dei dettagli inquadrando dei grafismi delle cose che chiedo scusa posso interrompere? sì sì dimmi allora sono la insomma la signora la docente che ha fatto il quadro che le ha fatto vedere in questo momento ecco io ho preso una piccolissima che le ha fatto vedere il quadro in sé in tutta la sua grande ma ho preso soltanto una piccolissima parte del quadro e poi non lo so se l'ha visto ci sono delle delle dica no non l'ho visto non c'è come faccio a vederlo? non ci sono no nella schermata che ha fatto vedere prima ho visto due immagini in bianco e nero sicuramente sono quelle ho provato a caricare ma evidentemente non ci sono riuscita dove? quali immagini? allora nelle immagini che ha fatto vedere precedentemente mentre scorreva con il mouse ci sono intravvisto due immagini che mi appartengono come sia ah ok allora scusa me lo segno così così poi vado a controllare perfetto allora come non detto va bene no 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 ho capitate soltanto due immagini ma non tutto quanto il resto mi capisce quello volevo dire certo sì sì ho capito va bene è vero allora guarda prova no ma tu fai una cosa prova a rimetterlo no ok perché dovresti avere la possibilità perché prima era bloccata dovresti avere la possibilità di inserire fino a tre immagini eh no me la fate inserire quattro sinceramente ah quattro e non ci sono allora guarda va bene ok adesso vedremo d'accordo grazie dell'informazione grazie a te quindi perfetto quindi tu hai preso un quadro e poi sei hai catturato dei particolari di un quadro e poi ci hai fatto vedere sì sì ho preso una piccolissima parte del quadro e fatta lo posso mettere per interno per capire un attimino perfetto molto bene ottimo ok grazie grazie a te figurati ah ecco forse qua sono no 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 non sono qua non ci sono no non ci sono proprio ecco qui avete un colpo d'occhio avete un colpo d'occhio così interessante c'era anche un ambiente ecco questo anche per esempio quest'ambiente ma insomma eccole ci sono comunque sia signor Alberto dimmi dimmi ci sono l'ho vista adesso dove sono dovrebbero essere per o meno ne ho visto due sotto le ultime due c'è il quadro un uomo mascherato ci sono ci sono ah questa le ultime inquadrate c'è il quadro l'uomo mascherato e la maschera di carnevale ah queste fanno parte non l'avrei mai detto adesso ditemi voi sono parte del quadro io non ho fatto niente ho ingrandito come lei ha chiesto e io ho captato queste cose fantastico allora guarda vedete certo assolutamente fantastico perché ditemi voi se uno si può immaginare che da un quadro così d'accordo un'opera così possa si possa ricavare una grafica di questo genere ecco c'è anche il coniglio e ci dovrebbe essere e poi c'è il viso qui c'è un viso questo no questa è la maschera questa è la maschera ma ci dovrebbe essere comunque sia il viso di me di morro che è mio figlio allora guardate la maschera di carnevale è proprio una maschera di carnevale poi c'è il coniglio sì poi c'è il coniglio vediamo un po' dov'è ah eccolo ma sai che secondo me se tu analizzi bene questo quadro di Paul Klee tiri fuori una ventina trentina di queste cose le porti a New York a Gugnay Museum e gliele spiassi per due o trecentomila dollari l'una te le comprano poi torni all'icona ti ricordi dei tuoi insegnanti dei tuoi colleghi eccetera noi saremo contenti di ricevere qualche omaggio e tu realizzi una fortuna perché questo in realtà è il coniglio di Paul Klee giusto? se mi permetto non lo so se mi permetto manca il viso di Marilyn Monroe che mio figlio dodicenne ha riconosciuto senza io dire niente no ma io ho visto il viso di Marilyn Monroe l'ho visto eccolo qua vedete la bocca certo il viso di Marilyn Monroe a me ha dato un'impressione poi magari sì sì questo qua sì certo è il viso di Marilyn Monroe perfetto ok sono contenta ma non ho una cosa se tu estrapoli questa immagine da opere di grandi autori e fai una mostra di chi sono le opere sono tue o dei grandi autori di chi sono i diritti mie sono mie è interessante è interessante è certo che secondo me sono due è come Duchamp che ha messo i baffi alla gioconda guarda che tu secondo me puoi cambiare mestiere hai trovato un mestiere estremamente redditizio no sinceramente questa parte qua mi ha piaciuto tantissimo comunque per le altre cose non sono riuscita devo ancora prenderci mano però questa parte qua sinceramente mi ha piaciuto tantissimo e l'ho proposta anche mio figlio quella fine bene bene qui c'è l'attesa anche adesso non funziona ecco l'attesa fantastico l'attesa va bene fate questo esercizio ve lo consiglio caldamente perché poi ne parleremo quando arriverà il momento di parlare di storytelling che vedrete parleremo di cose e vi vi mostreremo appunto delle modalità e delle attività straordinarie poi ci sono gli sketch noti i quaderni va bene abbiamo pochi esempi qui sono interessanti questo è uno sketch note di Elisabetta questo è sempre il quaderno operativo di Elisabetta questo è un ottimo strumento per avviare delle attività con i ragazzi appunto l'avete letto poi nella capitolo 3 avete proprio a disposizione un uno strumento importante è semplice perché qui basta veramente powerpoint keynote per creare dei modelli da dare ai ragazzi e poi voi li fate lavorare su quei modelli lì ricordo sempre che ovviamente i modelli si possono modificare infatti Elisabetta ha realizzato questo file questo è un file keynote che sarebbe come powerpoint se vogliamo e per esempio ha cambiato la timeline cioè lei ha usato il modello che gli è stato consegnato e poi ha modificato qui c'erano delle frecce c'erano dei simboli grafici e lei ha messo delle faccine commedia thriller sentimentale fantascienza biografico quindi che cosa ci ha dimostrato Elisabetta ci ha dimostrato che noi diamo uno schema allo studente e lo studente poi con la sua creatività può cambiare questo schema però rimane sempre all'interno di un terreno questo è importante guardate che per fare in modo che gli studenti acquisiscano un metodo scientifico non li possiamo mettere davanti un foglio bianco dobbiamo insegnargli delle metodologie scientifiche quindi noi diciamo proprio questo è il modello che ti presentiamo cosa vuol dire vuol dire vuol dire che questo è il titolo qua c'è una timeline devi organizzarla in modo tale che funzioni così qui devi inserire i i i vari step e poi devi scrivere anche qualche cosa che illustri questo processo lui lo farà lo farà in una modalità che è propria quindi sostituirà elementi grafici eccetera però non esce da questo quadro e questo è l'aspetto scientifico che rappresenta lo sviluppo del suo pensiero abbinato alla creatività perché dobbiamo abbinare entrambe le cose per quel principio di cui vi ho parlato prima di Osubel cioè il fatto che l'apprendimento diventa significativo quindi io non compilo solo una fredda timeline ma la personalizzo e la personalizzo con degli elementi grafici qualche cosa di mio che fa sì che quella timeline non sia solo il risultato di un di un processo esecutivo di un lavoro non è solo un lavoro è qualche cosa che rappresenta una parte di me perché lì c'è un aspetto della mia creatività allora l'apprendimento scientifico si aggancia all'aspetto creativo della personalità e quindi si consolida e sarà una cosa che si acquisisce in modo molto più stabile che con altri procedimenti vedete anche qui e così via se andate a vedere i modelli originali i modelli originali erano molto diversi anzi si vabbè sono stati mescolati se no vi avrei fatti vedere comunque avete le slide i modelli originali sono stati depositati e quindi li potete prelevare quando volete oh allora parliamo del project work leggerete il capitolo 4 e vedete che il il meccanismo di una didattica online vi porta poi di solito succede così un corso in e-learning finisce con un project work come vi ho detto prima però attraverso una serie di step vedete qual è la differenza questa è una lezione tradizionale un meccanismo tradizionale on site in aula tradizionale proprio all'interno di un'aula scolastica e questo invece è un meccanismo che si sviluppa in e-learning ora il punto è che tra la lezione e la verifica come vi dicevo prima l'insegnante è fuori dal processo non ha un controllo mentre in un sistema e-learning essendo asincrono dalla multicanalità lezione oggetti datici portfolio project work tu hai tutta una serie di opportunità proprio per stare dentro il processo dei tuoi studenti che è quello che abbiamo visto prima che è un aspetto tipico dell'e-learning l'e-learning vero non l'e-learning basato su video lezioni che devi seguire puoi compilare un test eccetera un processo di learning all'interno di una piattaforma ti consente proprio di avere più possibilità di osservazione perché il processo è più articolato e soprattutto è asincrono mentre on-site in realtà è sincrono il processo comunque anche voi sarete chiamati a realizzare un project work e quindi insomma vedremo poi del forum ne abbiamo parlato qui ci sono degli estratti della dispensa il forum ci consente di controllare al microscopio il processo di apprendimento ci sono delle tipologie di forum invece in cui che ci servono per sostenere la tecnica cioè proprio i contenuti le cose da fare spicciole sono due tipi diversi di forum e lo vedete li abbiamo distinti per esempio il forum dell'Olimpo degli dèi è un forum tecnico non dobbiamo sottovalutarlo perché se non sei capace di fare una cosa poi è chiaro che non puoi pretendere di realizzare il lavoro quindi dobbiamo darti un supporto per questo lo vedrete poi sempre nella dispensa poi ci sono gli strumenti per sostenere i forum le discussioni l'avete visto la possibilità di aprire nuovi argomenti da parte degli studenti la possibilità di trasformare alcune cose in sondaggio vedete che abbiamo fatto un sondaggio sulla creatività poi vi saranno esposti i risultati questo sondaggio sulla creatività nasce dal messaggio di uno di voi all'interno di un forum è importante quindi riprendere i messaggi rilanciarvi sostenerli per esempio creare delle infografiche prendere prendere una serie di messaggi sullo stesso argomento e creare un'infografica che illustra vari percorsi opinioni tirare delle sintesi cioè la discussione va alimentata la discussione non è qualche cosa che nasce da sé e si chiude da sé lo vedete anche nei media la discussione deve essere moderata allora ecco che abbiamo poi chi partecipa alla discussione ma chi magari rimane dubbioso bloccato chi evade dalla discussione noi queste tipologie le dobbiamo agganciare tutte dobbiamo fare in modo che chi discuta non si stanchi di discutere chi ha dei dubbi partecipe alla discussione e chi non ne vuole sapere venga in qualche modo agganciato e tirato dentro ecco che quiz sondaggi premi interventi di vario genere sono importanti ma poi e qui ci avviamo verso la chiusura in un ambiente di storytelling game noi abbiamo i personaggi e in particolare abbiamo la funzione del perturbante la funzione del perturbante che avete visto adesso la scopriamo è quella di Cerbero Cerbero ha una funzione psicopedagogica molto importante ed è la funzione di mettere lo studente di fronte allo specchio guardate qua lo specchio lo specchio cioè che cosa fa il perturbante il perturbante come dire lancia delle sfide in continuazione ti mette sempre nella condizione di riflettere su quello che stai facendo perché lo fa il perturbante e non l'insegnante perché guardate se lo facesse l'insegnante diventerebbe immediatamente sarebbe assimilato come un processo istituzionale e non avrebbe nessun risultato zero risultati zero se l'insegnante mette lo studente di fronte allo specchio questo processo salta per aria se invece si mette lo studente di fronte allo specchio attraverso altri sistemi sicuramente quello dello storytelling e della gamification e quindi in questo caso utilizzando un personaggio come il perturbante il nostro cerbero allora la cosa funziona e infatti se voi leggete le risposte che ci sono le filastrocche eccetera complimenti tra l'altro per la collega delle filastrocche di cui non ricordo il nome adesso e no invece si ottiene proprio questo risultato che cosa fa il perturbante perché è importante per l'insegnante beh è importante perché mette in evidenza dei processi nascosti ma soprattutto mette lo studente nella condizione di riflettere sul meta apprendimento cioè sul modo con cui sta facendo le cose sta seguendo e lo fa in modo leggero perché il perturbante è pesante perché non è politicamente corretto e non può essere politicamente corretto anzi deve tendere verso la scorrettezza perché deve colpire e quindi suscitare un sommovimento ma allo stesso tempo è leggero perché è un'invenzione siamo dentro un cartone animato siamo dentro una storia quindi è finto è finto ma ti porta su un terreno di verità che è diverso dal nemico perché il nemico invece è quello che dobbiamo combattere ma voi pensate che il nemico sia sia chi? chi sarebbe il nemico? atropo no? pensate che sia atropo ma al gran ballo finale scopriremo chi è veramente il nemico attenzione 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 vedremo 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 però certamente atropo adesso è identificato come nemico il nemico ha un'altra funzione è il premio finale è il battere non c'entra niente con il perturbante il nemico non viene lì a provocarti perché è il nemico ha una sua statura etica morale non si abbassa a discutere con te il nemico può intervenire così occasionalmente per dirti che lui c'è ma lo scopo è solo questo è dire guarda che io sono qua è me che devi affrontare alla fine del viaggio prima di arrivare a Delphi l'ultimo che incontrerai sarà sarò io se no non entrerai a Delphi ma la sua funzione è questa la sua funzione è obiettivo del viaggio e guardate che non c'entra niente con la struttura di prop noi detestiamo la struttura di prop ve la smantellerò e vi spiegherò anche perché non funziona e non va assolutamente bene e noi utilizzeremo degli altri sistemi invece per creare le nostre storie che avranno un valore pedagogico più importante nella dispensa 4 quindi leggete bene la settimana di learning di Mario perché questo spiega bene che cos'è l'e-learning e vedrete che lì troverete qualche cosa per la quale voi direte caspita l'e-learning serve proprio a questo non c'entra niente con la didattica a distanza che abbiamo fatto in questo periodo ma proprio niente ma zero c'entra zero prima di tutto perché si basa sulla libertà di scelta di Mario e si basa sul fatto che l'e-learning è un'attività asincrona asincrona e quindi richiede la libertà dello studente di accomodarsi quando vuole all'interno di questo percorso la settimana di Mario è molto importante nel capitolo 4 vi invito veramente a leggere questa parte e poi ovviamente se scusate se il rapporto tra Mario e l'e-learning è quello descritto qui in questa settimana allora noi abbiamo bisogno di uno strumento di progettazione didattica di un corso e-learning che è il learning plan learning plan lo chiamiamo quindi anche questa parte è molto importante la potete leggere allora può sorgere la domanda la domanda è ma se l'e-learning è una cosa completamente diversa dalla didattica a distanza che non ha realmente un ruolo se non in queste circostanze di emergenza così allora noi che cosa possiamo fare ma voi non dovete organizzare un insegnamento in il learning ovviamente sarete in classe con i ragazzini si spera ma tenete conto che tutto quello che apprendete e leggerete poi adesso in questo capitolo 4 può diventare un progetto un progetto che viene svolto in modalità sincrona quindi dei momenti dei momenti che si combinano con l'attività tradizionale che voi svolgete in classe ecco io dico che voi la dovete vedere così oppure se dovete formare degli adulti dei colleghi eccetera allora sì allora diventa una modalità completamente learning come quella che stiamo svolgendo noi e allora avrà la sua completezza altrimenti voi prenderete questi aspetti come delle opportunità per arricchire quello che voi state facendo e questo è molto interessante perché è proprio come dire lo sviluppo di un'attività di un'attività all'interno di un corso e-learning proprio con tutti i suoi step e poi vedrete che la valutazione 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 qui no valutazione valutazione cioè in pratica il processo di valutazione interviene su tutto il processo e l'osservazione anche e questo è proprio un pregio un pregio dell'attività asincrone in modalità e-learning che non abbiamo o perlomeno non abbiamo in questo modo invece all'interno di un rapporto on-site sincrono come quello tradizionale di insegnamento non avete compiti dovete solo così chiacchierare all'interno del forum di queste tre cose il perturbante la settimana di Mario il learning plan che vi leggete con calma all'interno della dispensa il questa attività chiude domenica ma non è che voi entro domenica dovete parlare di questo perché come avete capito i forum restano aperti voi potreste domani riprendere un vecchio forum aperto tre settimane fa e dire caspita ho capito una cosa scusate ma vi scrivo questa roba qua l'ho capita tre settimane dopo però è importante tac tac che lo scrivete perché torno a ripetere siamo in modalità asincrona niente mai chiuso neanche quando il corso finisce e quindi abbiamo sempre un'opportunità gli studenti per dire qualcosa e gli insegnanti per osservare i loro meccanismi ecco questo grosso modo grosso modo è quello che volevo dirvi oggi asincrona grazie a tutti grazie a tutti